Ophelia Malinov e Monica De Gennaro, due delle grandissime protagoniste di questa vittoria. Ophelia, oltre a fare l'alzatrice, ha chiuso con 7 punti all'attivo e i punti all'attivo di Monica non si contano perché ha salvato anche l'impossibile. Ophelia, che sensazione ti lascia questa gara? È stata una bella partita, tantissime emozioni. Peccato per averci fatto sfuggire due set, però siamo davvero contenti di essere riuscita a portare a casa questa vittoria. Ti ha fatto effetto giocare qui in Giappone? Certo, giocare in casa loro non è sicuramente facile ed è un grande risultato. Monica, tu ci avevi già giocato in Giappone, però è stata una partita di quelle che toglie il respiro. Sì, sappiamo che il Giappone qui in casa non era sicuramente il Giappone del primo set, anche se noi abbiamo fatto secondo me un primo set strepitoso, sbagliando veramente poco. Poi loro sono cresciute, hanno forzato in battuta, ma anche hanno cominciato a difendere tutto, come si sa che fanno qui in Giappone. E siamo state brave a recuperare dei set che eravamo in svantaggio e comunque a portare a casa la partita perché comunque non era facile di aver perso il secondo in quel modo e anche il terzo per riuscire a vincere il quarto e il quinto. In una parola sola, come la definiresti questa gara? È entusiasmante.